ciao a tutti e benvenuti in questo breve video rispondo ad alcune domande che ho ricevuto la prima di Gaetano Delfino che saluto il quale mi chiede come da quel che ho potuto comprendere dalla sua domanda poter allenare la respirazione senza l'ausilio delle mani perché poi tolte le mani magari presumo poi lei Gaetano faccia fatica rispondo a questa prima domanda l'uso delle mani l'uso della fascia aiuta chiaramente a sentire l'espansione costo diaframmatica cosa può fare Gaetano ora io non so se lei si occupa di canto pop o di canto classico c'è un po di luce spero che comunque si veda quindi lei utilizza le mani nelle costole medio basse non metta troppo in basso per ora quindi lei allarga fa questo e sente l'espansione mi raccomando non deve essere una spinta questo vale per tutti muscolare delle costole in fuori o con rigidità lasciate molto morbido il torace è solo il soffio dell'aria che spande 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 in questo modo morbidi dolce poca aria alla volta e queste sono chiaramente le mani che cosa accade se lei non vuole usare le mani perché poi dice tolgo le mani e ho paura di non sentire più l'apertura costale prenda le mani immagini di avere due piccole calamite tra le dita le pogga le metta alle costole medio basse e faccia questo leggero movimento vede mi avvicino appena appena anche le costole le può mettere adesso le costole un pochino più basse non ai fianchi ma le costole più basse immagini di avere due piccole porticine qui e non pensate questo l'ho detto tante volte l'aria che scende poi apre lateralmente pensate subito un risucchio qui come uno sbuffino di vento che apre appena appena due porticine tac sufficiente poi chiude tac vedete questo movimento vede Gaetano tac tac questo piccolo movimento è più che sufficiente apro poi rimango in apertura canto la mia frase e poi mollo tutto chiaramente sostenendo e poi mollo tutto il movimento che può fare poi togliendo le dita semplicemente abbandoni le spalle e il torace immagini di essere un piccolo pesce che apre appena appena le branchie qui appena appena quasi come se annusasse un fiore provi a fare questo provate per chi mi segue a fare questo sentite il suono come se annusaste proprio il profumo piacevole di un di un profumo di una rosa di un fiore che vi piace di una torta al cioccolato di qualcosa che a voi piace quindi questo subito un risucchio laterale mi raccomando non davanti ma laterale questa piccola apertura come due porticine tac va bene spero questo possa aiutarla al meglio a sistemare la respirazione io la mostro spesso in maniera massimale perché il nostro strumento va costruito e va allenato per cui è bene elasticizzare la gabbia toracica al massimo poi quando si prende aria basta anche poca aria ma gestita bene perché come gestiamo l'aria che fa la differenza basta pochissima aria soprattutto nel canto pop pochissima aria ma ben gestita cosa significa mantenere poi l'appoggio il sostegno la voce in avanti tutto quello che è necessario quindi per chi mi segue per Gaetano spero di essere stato chiaro intanto le mando un saluto vi mando un saluto e rispondo alla domanda successiva